3 Edward 65, 3 Edward 65, a construction zone, 2, 8, 8, Northern, 3 Edward 65. Hanno attaccato uno shuttle d'extramondo, hanno ucciso equipaggio e passeggeri. Lo shuttle è stato trovato alla deriva vicino alla costa 20 giorni fa, perciò sono in giro. Imbarazzante? No signore, imbarazzante no, perché nessuno saprà mai che sono qua giù, perché tu li troverai e li toglierai dal mondo. Non lavoro più qui Brian, passa lì a Holden, è bravo. Già fatto, Holden respira bene purché non gli tolgano l'ossigeno, non era bravo abbastanza, non come te. Ci vuoi tu, Dick? È un brutto caso dei peggiori, voglio il vecchio cacciatore con la sua magia. Ero libero quando sono entrato qui Brian, e libero ne esco. Fermati dove sei, conosci questo mondo amico, se non sei della polizia non hai peso. Non ho scelta, non ce l'hai amico. Mi servi qui, per ritirarli, i replicanti tu devi fermare. Devi scoprire che sono venuti a fare. Io voglio il pianciatore, io voglio il pianciatore. Solo così riuscirai a liberarti di noi. Io voglio il pianciatore, io voglio il pianciatore. La tua libertà non se ne andrà mai. Maura, rabbia, invidia. E li dotarono di un dispositivo limitante. Cioè, a dire? Quattro anni di vita. Ora c'è un Nexus 6 qui alla Tyrell Corporation. Voglio che controlli con l'apparecchio. E se l'apparecchio non funziona? Cosa mai cercano quattro replicanti? E se l'apparecchio non funziona? Io li troverò, li ritirerò Le piace il nostro buco? E' artificiale? Naturalmente Sarà costato? Sì, molto Io sono legge Del momento Sì, molto Il signor Decker e il signor Elton Tyre 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 In scena si svolge un banchetto I convidati degustano un antipasto di ostriche crude La prima portata consiste in un cane bollito